Nei prossimi anni una capacità erogativa per la nostra zona, e parlo di zona A, non superiore probabilmente ai 300.000 euro, con un totale quindi di 450.000 o 600.000 a seconda la forchetta capita, è impossibile determinarla oggi per domani, per il semplice fatto che ogni giorno c'è una variazione di redditività, di investimento, che permettono però con un calcolo prudenziale di proiezione dei mercati, anche attraverso i brokers a cui ci affidiamo, di andare a proiettare un investimento non superiore in capacità erogativa ai 5-600.000 euro l'anno. Fermo restando che è competenza del CDA e dell'Organo di Indirizzo la possibilità anche di destinare risorse proprie parte dell'attivo di bilancio per reintegrare sia il fondo di stabilizzazione delle erogazioni che il patrimonio della fondazione.